Un'altra delante comunicazione, visto le forzerie delle forze del disordine, hanno fatto ieri, dopo aversi con l'aiuto dei misili del fuoco, ampiamente annaffiati alla barricata che abbiamo di peso per ore e ore, dopo l'infinita quantità di lacrimotemi che hanno buttato insossicando le persone, si sono anche permessi di andare non solo a rompere delle tende, ma hanno tagliato le tende dei campionatori e le hanno anche lordate e si sono anche permessi di andare a fare delle cose, di noi finché eravamo, oltre ad altri disordi veramente vergognosi come prendere a schiacchi le donne o anche peso, allora queste cose non possiamo passare in certo silenzio e quindi abbiamo deciso di raccogliere tutta la documentazione, chi si è sentito male anche per i latrimotemi, chi faccia fare un recerto, perché i loro 50, i 40 feriti non sono niente perché non sono veri, mentre noi di persone impossibilitati dai loro cifosi, strumenti di tortura, noi abbiamo parecchio. E poi, come documentazione di quello che è successo, se lo fate avere, abbiamo deciso di mettere in piedi un gruppo che sarà assistito dai nostri avvocati per vedere che cosa possiamo anche fare dal punto di vista penale nei confronti di questi indegni personaggi. Non sono soltanto le vie legali che fanno la lotta, la nostra lotta si è dimostrata veramente forte e determinata e sarà una lotta vincente perché le persone ci sono e non si lasciano mettere in piedi in testa e la difesa dell'esistenza, dell'abilità della vita e del futuro di tutti, tutta la sua. Le nostre ragioni sono alte da tutte le parti d'Italia, sono stati fatti dei presidi e c'è stata data solidarietà e noi continueremo fino alla fine perché la Magdalena Libera è un punto di nuovo ritorno. Ora stanno preparando quant'anno su quel territorio, ma noi inizieremo ad abbassare le loro cancellate. Siamo sottruito con i suoi abitini e tutti per negare il futuro a tutti e noi piangeremo fino in fondo il futuro nostro e degli altri. Allora, per tornare al primo argomento della documentazione, lo faccio avere alla credenza, si costituerà, ne parleremo anche nei coordinamenti dei suoi stati, un gruppo per eliminare il materiale e per agire il merito a quello che hanno fatto. più bella, più rapida, più spontanea dell'agente a quello che è successo ieri mattina alla Magdalena. Ieri mattina a Magdalena sembrava di essere a Bagdad e là c'erano delle persone, dei cittadini che lottano, lottano e continueranno a lottare un'indale comune. Sono stati attaccati in un modo mostruoso e criminale. Non importa, la nostra lotta continuerà. Io credo che questa sera lo abbiamo dimostrato, lo dico anche ai giornalisti presenti che non stanno mai con il cane bene. E poi questa visita devo dire che vedo molto faccia e che non avevo mai visto la manifestazione. Questo è un buon segno, vuol dire che la gente è veramente stufa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sotto a sede, sotto a patto. Noi sono venuti in Montegazza perché sono venuti da un rischio con i lacrimogeni. 500 lacrimogeni per mille persone. È la più alta densità di lacrimogeni mai vista in una manifestazione nazionale. Quindi non parliamo più di marcellaria messicana. Come c'è stato nel 2001 a zero, era giusto dieci anni fa. Prendiamo di marcellaria di marcellaria. Grazie al senso di responsabilità di questi ragazzi magnifici. Non è successo quasi niente. Non è successo quasi niente rispetto a quello che ci si è. Per i lacrimogeni. Per i lacrimogeni. Per l'acqua pubblica. Per loro che ci battono contro il conto. Venite, venite in Montegazza perché questo è il momento. Venite in Montegazza. io non c'è, io non c'è nulla, vii volte qui, venite in Montegazza. Allora, sembra che sta vitone qui. Venite in Montegazza perché si è finita, che ci vabbia 42 persone stanno fatte, che in cento è già una sorta. Venite in Montegazza, che in minore rapidamente calcourse. Nientate in lord è un breakoutあー, che diventate in 1.00 everybody dopo aver 1.000ujuts, che mi visto che abbiamo notato oggi l'enorme dispositivo di sicurezza e di controllo del cantiere che è veramente imponente, però è anche molto fragile, è anche molto facile infastidirlo. E' bastato essere oggi pomeriggio una trentina di persone lì alla centrale dell'AM a Chiamonte a presidiare un po' l'accesso dell'area e già i garabinieri si sono agitati che hanno dovuto mettersi i tasti e sono rimasti tutto pomeriggio sotto il sole. E quindi sarebbe importante in questi giorni, in attesa di alle fine settimane dove potremmo essere veramente in tanti grandi fastidio, comunque tutti i giorni provare a fare delle piccole cose, piccole azioni di disturbo. E quindi già domani sera, come facevamo l'inverno scorso quando c'erano le trivelle che ci troviamo tutti alle 18, alle 18.30 domani a Chiamonte in piazza verso quell'ora ci troviamo e andiamo a fare una passeggiata fino a giù alla centrale e inizieremo a ristabilire una piccola forma di presidio. Qua oggi abbiamo montato dei gazebo lì davanti e quindi vi dimostriamo che non siamo facilmente domabili, continueremo a stare lì e a dar fastidio e dovremo fare i conti con una resistenza che si annuncia anche molto lunga. Non dobbiamo pensare che questa volta sarà così facile come l'Aus, perché probabilmente sarà necessario fare più di un tentativo, ma prima o poi ce lo riprenderemo questo cantiere e se non sarà domenica prossima sarà domenica dopo. E tutte le settimane saremo lì, di giorno, di notte, a disturbare e a cercare di impegnere questa infame imposizione a territorio della Val di Susa. Tra l'altro abbiamo visto che in 24 anni abbiamo lavorato molto, hanno recintato tutta l'area del piazzale sud dove l'hanno fatto il campo base, il museo archeologico l'hanno reso impraticabile, hanno fatto diventare la cascina della Maddalena la sede dei loro uffici e stanno costruendo lì la base logistica del cantiere. Però hanno fatto anche delle azioni molto sporche, che abbiamo potuto documentare, domani sui siti notavo, usciranno le foto, tutte le tende che erano nel bosco sono state distrutte, cagliate con i coltelli, hanno tagliato i zaini, i saccapelli, hanno cagato delle tende. Tutta questa roba è documentata e la denunceremo nell'opportuna ai sedi. Ma tutto questo è per dimostrare, per far vedere ancora una volta di che pasta sono fatti quei poliziotti che sono arrivati lassù, gente che non sa nemmeno dove è, non capisce neanche che cosa ci sta a fare lì, però si comporta in questo modo. E quindi insomma l'invito è quello di trovarsi tutti questo fine settimana in su, ognuno con le sue forme, ma anche con la creatività che ci permetta di impensierli e sorprenderli ancora una volta. A sala dura! Io credo che quella che stasera sia stata la miglior risposta a tutti quelli che hanno provato di nuovo a fucire addosso a questo movimento e l'immagine che non gli appartiene. Questo movimento di parare si ha sempre dimostrato in tutti questi anni la capacità anche nei momenti più difficili di non perdere una caratteristica fondamentale, un grande movimento popolare e democratico. Io credo che per tutti coloro che come noi in tutto questo movimento ci stanno rispettando l'autonomia, farne parte sia già davvero una cosa importante di cui credo con i miei piedi. L'unica cosa utile che si può fare nelle prossime ore lavorare perché queste capacità che anche stasera questo movimento ha dimostrato ci portino nei prossimi giorni e nei prossimi settimane qui, ma a livello nazionale a Torino a far crescere interamente la mobilitazione, ad arvalgare la realtà che contribuiscono a questa locca. Per quanto ci riguarda naturalmente, faremo la nostra parte, innanzitutto con i lavoratori e i lavoratori italianici di questa valle che anche nella giornata di noi, con difficoltà e con grande coraggio hanno provato insieme a tutti noi a dare una prima risposta importante e credo che questa sera abbiamo avuto l'interiore conferma che come tutti abbiamo sperato, non l'inizio, non l'inizio, non l'inizio, non l'inizio, non l'inizio di questa storia, ma una tappa tragica che ci darà forza ancora più forte per andare avanti e riconquistare quello che ad oggi è sembrato per nulla indipendente. Grazie a tutti e per la vostra presenza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e quindi questo è il rispetto che noi stiamo sentendo avanti, quello della difesa, della legalità in tutti i suoi aspetti. Vogliamo la legalità, vogliamo che questa opera sia una parte che si sorgono, quando si sorgono e quando si sorgono. Allora oggi nel Parlamento si è stati sfruttando di una manovra del giro di 40 miliardi, allora qualcuno ha il coraggio di tirare fuori che l'anno prossimo si spenderà solo 1,5 miliardi e tutti gli altri saranno domandati al 2014 quando non ci saranno più loro. Mi sembra che questo non sia un governo serio che ha a fronte i problemi della nozione con lo spirito serio. Il movimento si sta allargando, l'appare di Bonciotti, l'appare di Carnetti e dei primi sono segnali importanti, sono segnali che da alti e da molti punti di vista si stanno ponendo ai tutti che l'attività e l'attività è da sopra. Abbiamo detto che l'uso della forza ha registrato una vittoria per il governo, ma è una sconfitta dalla politica, è una sconfitta dalla ragione. Quando finito nelle bancatelle la politica è sconfitta e questo lo diciamo sempre chiave e forte. Diciamo anche, diciamo anche chiave e forte che il fatto che il prodotto iniziale di l'anno, quello da 15 o 17 miliardi di euro e più fratto di miliardi perché se fossero inizialmente, adesso all'ultima versione, la versione low cost, quella che prendete solo più la canna. Allora questa è la stessa maniata della sconfitta e dell'attività del suo rotomio, perché se abbiamo raccontato in tutti i sensi, in tutti i modi, era assolutamente necessario fare la proposta internazionale di Fuglia, l'interporto di Abassano, il mondo di Terino, adesso con quello che ha necessario solo più una canna, è una di promessa. Allora io credo che questo movimento, questa azione debba continuare, debba continuare con due toni di raggi da parte tra amministratori e movimento, che è un utile contestino per trinunciare la legalità in questo benedetto Paese. Buonasera a tutti. Bravo! Aggiungere solo una proposta che si inserisce in quell'attività di pressione che dobbiamo continuare fino al successo della manifestazione nazionale per riprendersi da Maddalena. Il gruppo dei cattolici, dalla vita della valle, domani mattina alle 9, si troverà davanti alla centrale per andare al filone, dove abbiamo da pagare i fiori e controllare i comodori che abbiamo piantato. E noi vogliamo trovare, perché noi abbiamo un luogo dove si riflessa e si prende accessi alla camicia. Quindi chi è disponibile a voglia può venire le noi. Però c'è un'altra cosa importante che io lascio dire all'avvocato Claudio Lomar, perché io penso che le situazioni che sono state venute prima e che sono venute fuori dopo il massacro che è avvenuto, il massacro che è stato fermato solo dalla responsabilità e dalla volontà organizzata dei militanti motari che hanno combattuto palmo per palmo per difendere quel territorio e ritirarsi con l'onore. Ecco, io penso che questo richiede una ripresione più interiore, un sacco di qualità, per chiedere una cosa importante che vi spiegherà l'avvocato che ha già lavorato sui sottotitoli presidenziali. Se si tratta di questo, a partire da una ripresione che abbiamo fatto sulle vicende di Venau, tutta la scandalosa ricinazione che è stata fatta per le rinunce che sono state presentate nei confronti della polizia per il comportamento tenuto, si è ragionato su una proposta di iniziativa popolare che deve realizzare in Italia quello che in tutti i paesi decenni non è già una realtà legionativa, e cioè il meccanismo di identificazione dei poliziotti è solo per l'intituzione dell'ordine pubblico. Cosa significa questo? Significa, tanto per fare degli esempi, che i poliziotti che hanno massacrato le persone in generale non sono mai stati identificati. Le persone che mi raccola via sono in generale sono in generale che non sono stati identificati perché erano organizzati e avevano molti potenti ai casi. Allora, in tutti i paesi dell'Europa, c'è una connessione del Consiglio dell'Europa tutti gli stati membri, e ci sono delle iniziative del Consiglio internazionale per la Commissione, che c'era una dettaglia, e ha un paese di questo tipo. Cioè, in tutti i paesi dell'Europa, è previsto che le forze dell'Italia un'impegnata in operazione di ordine pubblico è una proposta di legge a costo e gelo, è una proposta di legge a costo e gelo, che viene vada rilanciata, è forzamente un'iniziativa preparare per una cosa di gelo che non fa arrivare a una proposta di legge definitiva da portare al Parlamento che consenta di identificare quei leggetti che fanno l'interazione di ordine pubblico. Questo per superare i manifestanti nell'ambito delle manifestazioni, per rilanciare il corso di tutela del Consiglio che è una risorsa della pratica e che invece i signori che stanno al governo e la maggioranza delle forze parlamentari considerano come un consiglio. Io credo che la proposta di questo tipo abbia la capacità forse di tutelarsi e passerà a sottolineare le manifestazioni, sottolineare le forme che il Consiglio sociale rindirà di adottare nei prossimi anni. Quindi il campionario prima di lavorare al Sud, dovremmo interrogarci su questo, sono proposti e si tratterà poi di raggiungere il suo. Grazie a tutti. domenica. Allora, domenica domenica. Domani sera, tradizionale in sala conciliare, ora 21, c'è il coordinamento dei comitati per vicino alla loro iniziativa per farsi in fine settimana. In linea di massimo, domenica, bisogna venire con gli scartori domani, lo fai, e cercheremo di fare delle pazientate nei posti per vedere, per vedere se riusciamo a fare il capire con la gente di arrivare alla Magdalena è facile, riempirci di lacrimogeni per loro è estremamente facile, conquistare quel posto non è distante, così difficile per loro, ma perché non ristorci. Allora, noi crediamo che riempirà. questa domenica sarà una prima segnale che diamo questa gente che non è facile restare in quel posto. Potremmo di riuscirci, l'ideale sarebbe riuscire a riprenderci, ma ci rendiamo conto che tra ieri e ieri di pomeriggio, oggi, hanno brindato abbastanza bene il posto e quindi potrebbe essere un periodo di riuscire. Noi vediamo presto, c'è un periodo di domenica, e ora un passo calmo. Dopo domenica ci saranno un edito, poi ci saranno un altro domenica, poi ci saranno un altro settimane, questo lo vediamo, eh? Allora, non c'è bisogno di avere presto. Noi domenica abbiamo l'appuntamento, vi diremmo i posti e i passi dove c'è l'appuntamento, bisogna venire con i due luci, possibilmente con il nostro anticozzo per questo per i miei amici e altri modi. Portate i nostri amici da nuoto, perché vanno molto bene e i miei amici riservano. Portate dai muori, portate dai mar, portate le dicere da nuoto, che possiamo aiutare, ma soprattutto portateli da un cane, portateli da bere, dobbiamo voler essere autonomo da quel punto di vista, stavolta veniamo a fare le grandi, i grandi passi che sono promosi per rinvoltare. Dopodiché, domani sera, decidiamo i dettagli, questa sarà solo la prima delle grandi manifestazioni nazionali che porteremo avanti fino a quando ci riprendiamo la Maddalena. io questa sera ho scommesso da un giornalista che non era un giusto e ce lo riprenderemo la Maddalena, ce lo riprendiamo. Purtroppo, e quando lo vedremo? Perché non c'è mai la storia che si ripete, se rinnova, se rinnovano. E noi, Maddalena, ce lo riprenderemo. E loro dovevano mettere in conto, però, che ci devono tenere 2.000 uomini per dieci anni che devono fare gli infiniti, che hanno costato il proprietario di quanto è stato premesso. E Tremonti, per esempio, ha già detto, che non può costare di più la guardia mia dell'opera, perché loro non hanno appena. allora, questi sono dei dati fondamentali, sono dei dati iniziali, ci sono già stati lanciati alcuni iniziative per domani. Voglio ripetere, ricordo, due cose. La prima. Perché loro non hanno conquistato la Maddalena, ma che era un presidio che avevano costruito c'è ancora una persona. Che non è andato via. Non sono riuscito a mandarlo via, perché avevo rinnovato. E lui era, che fa la guardia. E allora noi, mi pare che si chiamano Marco Guerra, non mi pare che si chiamano Ecco, allora noi vogliamo guardarli tutto il nostro solidarietà perché se non ci sono vicini ci vengono a trovare. Dovemmo mettere dentro in una centrale che andiamo a trovare. Un'altra cosa, che ho detto prima, ci sono quelle persone che stanno ancora ferme alla strada, che è dalla centrale al sur alla fronte di Inzin. Sono lì sotto il Giorgio che si è cercato di mettere insieme oggi pomeriggio, guida il tetto, e si sentono un pelino soli perché sono arrivati vicino di persone, allora se qualcuno voglia andare a dormire e vuole andare a fare un giro in giù, è venuto in giro e dovremo in privata, grazie, e adesso andiamo a dormire, buona grazie